piano 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 riusci a guardare il ruoto dietro? c'è il belori mi sapevo piegato cos'è l'esterno la caviglia qua ti fa male qui all'interno? non riesco bene a tirarlo all'interno ti fa male fuori? hai visto? hai appoggiato il piede a terra? sei tranquillo c'è un po' di curva al limite te l'hai visto fare c'è l'acqua? non si è rotto nulla vedete un po' di ghiaccio io ce l'ho a ghiaccio hai preso solo una botta per fortuna stavo scendendo benissimo però occhio che non si rotta no ma è una botta eh è solo una botta io non lo so però a me è capitato fa malissimo subito forse qualcos'altro urlerebbe come lo stesso no si dopo con il piede poi con la forza di volontà ti va a finire no 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 no